amiche amici bianconeri buongiorno e bentrovati mercoledì 2 giugno festa della repubblica e quindi ovviamente consentitemi di esordire con una buona festa della repubblica a tutti quanti voi che mi seguite qui sul canale siete diventati numerosissimi anzi non vi ho erroneamente fatto pubblicamente i miei ringraziamenti per il rinunciamento di quota 6.000 iscritti che ormai siamo lanciati verso quota 7.000 grazie davvero di cuore per la fiducia e il seguito che state dando alla crescita di questo canale io ovviamente come sempre vi invito a continuare ad iscrivervi per chi non lo fosse a questo canale tenendo attiva la campanella delle notifiche per rimanere ragionati su tutti quanti contenuti futuri che pubblicherò qui e poi in fondo alla puntata ovviamente il mio invito a voi la scelta sia porre o meno like al video andatevi a riprendere qualora non l'aveste vista o ascoltata la bella intervista ovviamente non per il sottoscritto ma per l'ospite fatta uscita ieri a consuelo motta opinionista giornalista che trovate su top planet e su radio bianconera la trovate ovviamente qui sul mio canale oggi tre gran minuti dedicati la notizia fresca uscita proprio nella serata di ieri io ne avevo parlato con un amico il giorno 31 maggio ieri è arrivata la conferma il riscontro che attendevo da parte dell'ottimo romeo gresti che ne ha parlato della possibile ritorno alla juventus di andrea barzagli bene evidentemente avevo avuto i sentori giusti andrea barzagli contattato da massimiliano allegri potrebbe tornare nel organico bianconero ovviamente non come giocatore il calcio giocato lo ha lasciato già ormai da un paio d'anni rientrerebbe come collaboratore e trovo questa una notizia particolarmente positiva perché andrebbe secondo me a portare esperienza professionalità in uno spogliatoio che necessita di avere delle linee guida importanti quelle che sono quali sono sempre state quelle appunto della società juventus professionista serio professionista esemplare persona davvero affidabile andrea barzagli potrebbe portare quel plus e quel quid in più che evidentemente massimiliano allegri ritiene necessario avere nel proprio staff mi sono imbattuto chiaramente anche con chi di opinione differente opinioni che vanno tutti quante rispettate perché trovano la scelta di staff importante come quella degli eventi sull'incapacità di separarsi da quel cordone obilicale che la lega col passato ma ripeto trovo che la scelta voluta da massimiliano allegri possa essere letta soltanto in maniera positiva questa va di pari passo con un'altra notizia che io personalmente qui sul mio canale non ho ancora commentato lo faccio ora l'inserimento io peraltro chi mi segue lo sa sono ormai diversi mesi forse anche un paio d'anni che vado dicendo che dall'uscita di beppe marotta dalla juventus dalla separazione delle strade appunto tra della juventus e beppe marotta mancava una figura importante di riferimento come quella che era ricoperta all'ex ad ora all'inter ecco che dal cda exor emerge la voglia di una ristrutturazione di una riorganizzazione societaria e quindi col reinserimento della figura del ministro delegato che sarà presumibilmente quella di maurizio arriva bene che dovrebbe essere annunciato a giorni maurizio arriva bene top manager non va letto come una sconfitta di come una figura perdente perché associata alla ferrari che sono anni che ormai non vince ma va letta invece come l'inserimento di un top manager una persona di una di grande personalità di forte impatto sul sulla struttura societaria peraltro un uomo che conosce benissimo l'ambiente juve perché già presente da anni ormai nel cdi a juve è un uomo che non deve essere visto come grande intenditore della parte tecnico tattica ma di grande invece supporto all'extracampo ovviamente in grande affiancamento a federico cherubini e alla figura più manageriale dell'annatore neo bianconero massimiliano allegri al quale appunto sono stati concessi maggiori poteri e decisionali proprio sul mercato da qui la scelta di una storia delegato diciamo più che non di un direttore generale che era stato individuato in giovanni carnevali già in seguito la corsa la scorsa estate proposta declinata dall'attuale ministerio delegato e direttore generale del sassuolo giovanni carnevali nel corso di questa stagione evidentemente ci sono stati degli scogli insormontabili che hanno fatto sì che la diciamo il ballottaggio tra la figura di carnevali e quella di maurizio bene maurizio arriva bene fosse appunto vinta dal ex manager ferrari a questo punto è giusto anche fare una piccola curazione su quelle che sono state le informazioni che vi ho rilasciato qui sul mio canale in merito al contratto sottoscritto da allegri con la juventus che gli consente ovviamente di avere maggiori poteri manageriali ma avevo parlato di 9 milioni per quattro anni in realtà massimiliano allegri va a percepire meno di quanto percepiva nel corso del suo ultimo anno di contratto con la juventus che se non sbaglio erano 7,5 andrà a percepire 7 milioni più bonus questi bonus sono diciamo qui plus che la juventus inserisce proprio per incentivare al raggiungimento di grandi obiettivi che consentono ai propri tesserati consentono ai propri tesserati di andare a guadagnare molto di più di quella che è la parte fissa per allegri quindi un contratto da 7 milioni più bonus non 9 come erroneamente detto e quindi juventus che va via via definendosi e delineandosi nella sua ristrutturazione sia societaria sia nella sua riorganizzazione tecnica e di campo attendiamo di capire se l'arrivo di andrea bardagli sarà cosa ufficiale ripeto la trovo come una notizia molto positiva come una ripartenza molto importante perché si sta soprattutto ponendo le basi per dal basso per poter avere una juve forte e solida ragazzi io ho finito vi do appuntamento ai prossimi tre minuti non è escluso sempre nel corso della giornata vi rinnovo una buona festa della repubblica tutta lasciate a tutti lasciate i vostri commenti qui sotto sempre forza juve ci vediamo ciao iscrivetevi al mio canale youtube mettete like al video seguitemi sui social che vedete qui accanto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao